Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del nostro notiziario è dedicata alla riperimetrazione dell'area sin di Gera. Depositati gli atti che allargano l'area del sito di interesse nazionale. Ne abbiamo parlato con il vice sindaco di Gela, Simone Siciliano. Sentiamo. Sono stati depositati da qualche giorno presso gli uffici della Segreteria Generale del Comune di Gela gli atti del tavolo tecnico dell'11 febbraio scorso relativi alla riperimetrazione del sin Gela ai siti di interesse nazionale per la libera visione di chiunque ne abbia interesse. Il tavolo tecnico ha ampliato l'area sin inserendo 60 km di condotte, 80 aree e pozzo attive individuate nella planimetria fornita da Enimed, le aree di esplorazione fornite dal direttore della riserva del lago Biviere e la discarica Marabusca. Cosa dovrebbero fare i cittadini interessati che volessero presentare opposizioni o osservazioni? Dovrebbero motivarla, hanno 20 giorni di tempo per farla. Poi ci sono altri 10 giorni di tempo per ultimare la procedura. Dopodiché gli atti verranno trasmessi al Ministero del Territorio e Ambiente e alla Regione per far diventare quelle aree individuate, cioè i 60-60 aree pozzo, gli erodotti, i centrioli delle aree sin, quindi di interesse nazionale, per cui le bonifiche richiederanno i teleautorizzativi in capo al Ministero del Territorio e Ambiente. Chi può opporsi? Chiunque abbia delle motivazioni valide. È ovvio che a questo procedimento si è arrivato attraverso una serie di convenze di servizi che è durato circa sei mesi, con incontri con le varie categorie, vari portatori di interesse, per cui si è addivenuti a questa soluzione, in cui si è anche incluso all'interno della perimetrazione, che si estende su tutta la piana di Gela, anche i pozzi o le tentative di trivellazioni che poi non hanno portato alla creazione dei pozzi. È un notevole passo avanti, considerando che l'area sin storica era quella della raffineria, si chiamano sito di interesse nazionale perché le bonifiche rimangono sempre in capo a chi è proprietario, in questo caso, degli orodotti, quindi sarebbe la società Enimed. La cosa che cambia rispetto a non essere alle sin è che c'è appunto l'interesse dei Ministeri che ovviamente, qualora venisse a mancare l'ente per la bonifica, diventeranno soggetto sostitutivo. Adesso cambiamo un attimo argomento, Assessore, perché la città versa in uno stato pietoso da un punto di vista della raccolta dei rifiuti. Da un lato la chiusura delle aree di conferimento che non ricevono più rifiuti da tutta la Sicilia, dall'altra alcuni soggetti indisciplinati che gettano rifiuti a destra e a manca. C'è una soluzione che avete individuato a breve o l'emergenza rifiuti anche quest'anno getterà nel panico le cittadine siciliane? La parola d'ordine è differenziare. L'emergenza rifiuti non è sinonimo di sanatoria e quindi liberi tutti, conferiamo per strada quello che abbiamo in casa. È chiaro che più si differenzia, minore è la quantità di indifferenziato secco che va in discarica, quindi più facile è contenere l'emergenza. Gela oggi rispetto ai territori limitrofi ha ancora un aspetto dignitoso, la Tegra sta lavorando allacremente. È chiaro che le ordinanze regionali ci mettono in difficoltà perché limitano i quantitativi da portare nell'unica discarica aperta che è quella di Lentini dove già code chilometriche mettono in difficoltà la possibilità di utilizzare gli autocombattatori per servire il territorio. Considerate che l'indifferenziato ammonda circa 80 tonnellate nel giorno in cui viene raccolto, l'ultima ordinanza ci vincola a converirne soltanto 40. È chiaro che si pone il problema di dove andrà a finire l'altro 40. Quindi è chiaro che i comportamenti virtuosi aggioreranno l'amministrazione. Oggi ho fatto io un sopralloco su tutto il territorio, il territorio è dignitoso, il servizio sta ancora tenendo. È chiaro che più perdura l'emergenza più difficile è. E domani sera Canale 10 trasmetterà una puntata speciale di Agora dedicata proprio all'emergenza rifiuti. Ci sono novità relative alla vicenda della realizzazione dell'autostrada Siracusa-Gela. Sentiamo. Importante incontro domani alle 11 presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane dello Svincolo di Rosolini. Il presidente del CAS, Rosario Faraci, incontrerà i sindaci dei comuni di Ragusa, Modica, Santa Croce-Camerina, Comiso, Acate, Vittoria, Rosolini e Gela per fare il punto della situazione sul completamento dell'autostrada Siracusa-Gela. La Siracusa-Gela è una infrastruttura indispensabile, ha detto il presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane, per esaltare l'economia e il turismo dell'intera Sicilia, oltre che di quella importante area geografica. Occorre riprendere la questione coinvolgendo innanzitutto la politica e le istituzioni per il completamento degli ultimi sette lotti della tratta. Insieme riusciremo negli obiettivi che il presidente Crocetta ha già più volte giudicato prioritario. Ovviamente è rilevante il sostegno dei comuni del territorio, delle forze politiche e sociali del luogo e quello della comunità, conclude Faraci. Vero è che l'importante arteria stradale è un progetto che i cittadini di gran parte della Sicilia, Gela compresa, attendono da decenni. Tra speranze svanite, disincanto, inesorabile, il tempo è trascorso. Si attendono novità per rendere più fruibile una zona dell'isola che potrebbe certamente potenziare gran parte della propria economia, contando su una rete viaria più sicura, veloce ed efficiente. L'amministrazione comunale, in concomitanza con la stagione estiva, ha istituito tre corse di bus per collegare il centro urbano a Manfria ogni domenica e ne festivi. Oltre al servizio già attivo nei feriali da Gela verso Manfria, le partenze sono previste dalla stazione centrale che è capolinea. Alle 8, alle 13 e 30, alle 18 e 30, le corse di ritorno sono fissate da Piana Marina alle 8 e 45, alle 14 e 15, alle 19 e 15. Franzone, la storia infinita dei liberi consorsi in Sicilia e l'ingresso di Gela nell'area metropolitana di Catania vive un'altra tappa, un'altro capitolo. Che cosa è accaduto? Per noi la storia è finita, in quanto tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Il Parlamento regionale che adesso deve prendere atto e continua a perdere tempo su questa vicenda. Per questo motivo siamo andati a parlare con il sottosegretario Bressa a Roma, insieme al sindaco di Gela Domenico Messinese, l'assessore Sarenitro, il sindaco di Piazza Almerina Miroddi, ma abbiamo portato un documento sottoscritto anche dal sindaco di Niscemi Francesco Larrosa e dal sindaco di Lico di Obea Giovanni Verga. Siamo partiti appunto con i comitati, su richieste dei comitati e l'onorevole Caruso ci ha organizzato questo incontro. Bressa ha sentito le argomentazioni che sono valide su questo argomento perché si tratta di rappresentanza di democrazia e di una perdita di tempo ingiustificata da parte di questa regione. Ha detto che invierà una lettera al Presidente dell'Assemblea regionale e al Presidente della regione indicando loro di fare in fretta con il completamento della legge 15 perché appunto non è completo quell'iter che prevede tra l'altro il Comune di Gela e Piazza Miro Niscena a transitare all'interno della città metropolitana. Il coinvolgimento adesso del Governo, specifichiamo, sottosegretario a quale di Castero, quindi il coinvolgimento del Governo centrale secondo voi potrebbe determinare un'inversione di rotta? Questo è il sottosegretario alle autonomie locali, è stato colui il quale per conto del Governo nazionale ha impugnato la legge 15 per ben due volte e il Parlamento regionale per ben due volte ha dovuto modificare la legge 15. Quindi stiamo parlando del controllo che una volta svolgeva il Commissario dello Stato e che adesso svolge il Governo nazionale sulle leggi siciliane. Quindi diciamo che attualmente è un vero e proprio richiamo a concludere quella che è stata un'iter di legge prodotto da questo Parlamento. Il Parlamento deve applicare questa legge, quello che deve fare con le variazioni territoriali si chiama legge provvedimento, deve soltanto provvedere al passaggio, non può discutere o decidere, ma deve provvedere al passaggio di queste comunità in un altro and intermedio. E' Francesco Russello, il nuovo presidente gelese dell'Archeoclub d'Italia, eletto per il triennio 2016-2019. Prende il posto di Nuccio Mulè, rimasto alla guida dell'Associazione per ben 25 anni. Il vicepresidente Angelo Mondo, il segretario Enrico Toscano, il tesoriere Giancarlo Picchioni, il responsabile sezione giovani Giorgia Turco e fanno parte del consiglio direttivo Franco Città, Nuccio Mulè e Emanuele Seca. Con la prova d'esame, un test, la teoria e la parte orale, una quarantina di studenti delle quattro prime classi del liceo classico Eschilo hanno concluso il percorso annuale di alternanza scuola-lavoro seguendo un corso di 80 ore presso la sede della Procivis guidata da Luca Cattuti. La commissione d'esami, preseduta dal dottore Roberto Alaviso e composta da Luca Cattuti e dall'istruttore Massimo Curatolo, ha ritenuto gli alunni ben preparati nelle nozioni e nelle tecniche di primo soccorso. A seguire gli alunni divisi in due gruppi sono stati i tutor Olimpia Messina, Emanuela Tuzzetti, Diana Antonucci e Maria Concetta Tasca. Dall'alternanza scuola-lavoro, soprattutto per i licei, ha detto il preside Gioacchino Pellitteri, ha tra i suoi obiettivi anche quello di favorire l'orientamento degli alunni nelle scelte degli studi successivi. Molti nostri alunni sono proiettati verso gli studi di medicina e professioni sanitarie, questo corso li aiuta ad autovalutare la loro attitudine, ma è anche un percorso utile alla formazione umana e sociale. Gli alunni sono stati veramente bravi e attenti, ha detto Luca Cattuti, e con soddisfazione registro che nove di loro hanno aderito alla Procivis, scegliendo la via dell'impegno come volontari. Scuola e volontariato incontrandosi hanno così raggiunto i loro obiettivi. Sarà celebrata sabato la festa della Madonna del Monte del Carmelo, venerata nell'omonima chiesa. Ogni anno sempre più fedeli partecipano ai festeggiamenti. Sentiamo. Una tradizione religiosa che si rinnova è quella della Madonna del Carmine, domani ultimo giorno del Triduo e poi ci sarà la celebrazione della festa vera e propria. Come è articolata la giornata? La giornata di sabato, giorno della Madonna del Carmine, avrà dei momenti molto importanti. Uno è con le messe di mattina, una alle 8 e una alle 10 e mezza con la benedizione dei bambini. I bambini sono benedetti ma si sta usando ora la vecchia tradizione di anche di spogliare i bambini. Si sta iniziando pure qua, oltre che ai cappuccini. In modo particolare i bambini che sono stati male e vengono qui da me a dire che grazie a Dio sono stati guariti e intendono ringraziare il Signore pubblicamente. Poi la messa di sera che si tiene in Piazza Roma. Questa è la messa conclusiva che avrà appunto il simulacro della Madonna sul palco e faremo una messa concelebrata con l'imposizione dello scapolare. Lo scapolare è la grande promessa che la Madonna ha fatto a noi perché lo scapolare è un segno e dobbiamo stare attenti a non fare vedere in questo scapolare un po' sta fortuna. È un segno, una promessa della Madonna perché chi lo indossasse, ma stiamo attenti con fede, ecco, la Madonna ci promette che ci avrebbe agevolato e quindi avrebbe eliminato, avrebbe totalmente eliminato dalla fiamma dell'inferno come dice. Questo scapolare è stato consegnato da San Simone Stoc, un santo che è venerato in modo particolare da noi appunto perché è stato quello che ha voluto mettere in evidenza l'importanza di questo segno, ma sempre ripeto che questo segno in un certo qual modo modifichi la nostra vita perché il problema più importante è quello di seguire il Vangelo. Ci sarà anche la partecipazione dell'Unitalsi con soggetti in difficoltà e volontari. Sì, c'è l'Unitalsi, domani, ultimo giorno del triduo, ci saranno pure quelli del CAV, Centro Aiuto alla Vita. In un momento di grave crisi forse aumentano le preghiere e la gente si aggrappa, mai come oggi alla fede. Sì, questo è vero. Qui in piazza contiamo circa 600-700 persone. Vedo tanta devozione. Nell'ambito del percorso formativo Anche tu puoi salvare una vita, l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia, coordinata da Orazio Coccomini, organizza un corso di formazione come esecutore BLSD. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Si è concluso ieri con una grande festa spettacolo, il campus estivo del secondo circolo didattico di Gela. Un mese di attività a tutto campo per oltre 300 bambini gelesi che hanno trovato nella scuola elementare Enrico Solito e nel suo personale il modo per occupare in modo intelligente e formativo un periodo durante il quale di norma il mondo della scuola va in vacanza. Vediamo il servizio con l'intervista al dirigente scolastico Clizia Nobile. Dopo quasi un mese di attività intensissime, l'Enrico Solito conclude questo percorso del campus estivo che è oramai un appuntamento non solo fisso ma anche molto atteso dalla scuola e da chi la frequenta e non solo da chi la frequenta. È stata una bella esperienza, ogni anno l'esperienza diventa sempre più nuova con nuovi laboratori, con nuove risorse umane e materiali. La scuola si sforza di fare questo lavoro, lo fa per la città. Quest'anno abbiamo avuto un numero di richieste al di sopra di tutte le nostre aspettative, per cui la cosa che ci è dispiaciuta abbiamo dovuto dire stop alle richieste. perché ci rendiamo conto che di anno in anno l'esigenza delle famiglie diventa sempre più forte. Perché è vero che i bambini aspettano la conclusione dell'anno scolastico, ma quando finisce, soprattutto nelle famiglie dove i genitori lavorano, il bambino non sa cosa fare. La nostra scuola propone il campus, il campus che non è, ripeto, un GREST, è una scuola che si muove con dei professionisti che sono gli insegnanti e gli esperti esterni, esperti in tanti settori, in musica, in motoria, in inglese, in creatività. Abbiamo avuto tanti esperti e tanti insegnanti che hanno collaborato, ma la cosa bella è stata anche, come ogni anno, la grande partecipazione dei genitori. I genitori si vengono, si divertono anche loro, perché c'è anche il momento della giornata finale dedicata a loro, dove c'è un grande lavoro, ma dove c'è questo senso di unione, di condivisione, di quello che è la scuola e di quello che la scuola rappresenta per i loro figli e per la città intera. La Ladra di Ricordi di Barbara Bellomo è il libro che sarà presentato domani in occasione del quinto incontro dei venerdì letterari presso l'Eschilo Lab. Dialoguerà con l'autrice Marco Trainito. L'evento è organizzato dalla Libreria Mondadori di Gela in collaborazione con l'assessorato comunale alla cultura. Con il titolo di campioni nazionali e le medaglie al collo sono tornati in patria i ballerini della Lions Dance di Gela. Li abbiamo incontrati. Gli atleti e ballerini della Lions Dance tornano dai campionati italiani di ballo con tantissime medaglie. Che bilancio è? Abbiamo fatto un bellissimo campionato, una bellissima esperienza, perché questo è il settimo anno consecutivo dove ritorniamo a caso con delle bellissime medaglie. C'è stato davvero un campionato duro, faticoso, ma con grandi soddisfazioni. Abbiamo i vincitori dei campionati italiani, qualcuno che è arrivato quinto, terzo. Sono risultati davvero soddisfacenti per la Lions Dance e per Gela. È molto emozionante, anche perché sono delle esperienze che gli aiutano sia a crescere e poi sono delle soddisfazioni sia per noi che per le famiglie che con tanti sacrifici aiutano questi ragazzi ad arrivare a questi livelli. Come gli ho detto, campioni il primo giorno, dal secondo giorno in poi si inizia a lavorare per ottenere altri risultati, anche perché sono saliti di categoria e quindi è giusto che si impegnano giorno dopo giorno per raggiungere altri obiettivi che si sono prefissati loro e noi. Il confronto con gli altri ballerini italiani come è andato? Il confronto è andato bene, anche perché fin dal primo turno erano sempre i primi, la performance che hanno fatto era eccellente, quindi si sono meritati questo primo posto e è andato bene così. Si continuerà quindi su questa scia? Si, si continuerà nello studio della danza perché come scuola siamo gli unici a Gela che facciamo questo tipo di percorso per i ragazzi, dove domani avranno anche la possibilità di insegnare e di aprire qualche scuola anche loro. E voi siete i campioni nazionali per la vostra categoria, qual è la categoria? Allora, classici, 12-13 anni, danze latine, in cui abbiamo fatto una grandissima gara arrivando al primo posto. Che emozioni avete vissuto in quei momenti di attesa del risultato? È stata un'emozione proprio di ansia perché dovevi aspettare proprio il tuo risultato e quindi l'ansia ti saliva e non sapevi cosa fare, infatti poi appena abbiamo scoperto che eravamo i campioni italiani e c'è stata un'emozione bellissima. Che cosa avete ballato? Allora, un zamba, un jasha e un jive, però nelle prime batterie divisi e poi tre balli insieme. Da quanto tempo danzate insieme? Da un anno con la Ion Dance, mentre cinque anni con un altro maestro. Ancora cinque arrivi in casa Gela Calcio. Il direttore sportivo Giovanni Martello infatti ha portato a termine l'arrivo in maglia e bianca azzurra del difensore centrale Gerardo Strumbo, 25 anni, Gian Milazzo e Alamezzi e di Emanuele Trofo, 21 anni, centrocampista a scuola Lecce che negli ultimi due anni ha collezionato successi con la maglia dell'Akragas e del Siracusa. Sono del Gela. A titolo temporaneo dal Catania i difensori Davide Biancola e Benedetto Dadone e il centrocampista Simone Schisciano, tutti e tre classe, 1998. L'associazione sportiva direttantistica Mogela organizza il primo memorial Emanuele Giuseppe Alabisso. La competizione si terrà presso la struttura sportiva di Viale Enrico Mattei. Il torneo è organizzato appunto dalla Mogela, società presieduta da Giuseppe Alabisso fino alla tragica scomparsa del novembre scorso in cui è cresciuto anche il figlio Emanuele che ha militato nelle categorie della scuola calcio e del settore giovanile. Il memorial si concluderà ad agosto. La Divina Commediole è lo spettacolo di Giobbe Covatta che andrà in scena sabato 30 luglio prossima alle 21.30 al Teatro Antidoto di Gela. La manifestazione rientra nel cartellone estivo dell'Arena all'aperto e il biglietto costerà 10 euro. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.